Musica Sai dove si trovano? Alcuni, sono quasi tutti morti Degli altri non so Ma in una prigione qua vicino ce n'è un'intera squadra Vuoi organizzare un'evasione? Ma se siamo appena usciti di Galella? Ehi, vuoi stare con me o no? Questi tizi sono nello stesso blocco, sarà veloce Non mi piace Mi servono altre pillole Non ti serviranno ancora a lungo Facciamolo e basta Oltre le porte a sinistra Presto Esiste ancora un po' Ecco fatto Spara al vetro Ho sempre sognato di farlo Spara al vetro Pokémon Sto arrivando. Sto arrivando. Questa parte? Boat. Sala controllo! Ho preso! Ho finito le munizioni, me ne servono altre. Andiamo! Oh, mamma mia! Che cosa ho fatto? Oh, mamma mia! Oh, mamma mia! Come un po' tutto bene! Che cos'è un po' giro! Oh, mamma mia! Eeeh, non! 5 6 6 6 6 7 8 8 9 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 16 16 18 19 18 19 19 19 20 20 19 20 20 20 20 20 21 22 23 25 25 25 25 25 25 36 26 Ehi, ho riconosciuto la voce. Non pensavo ti saresti spinto a tanto. Riffich, non montarti la testa. Sono qui solo perché i sette mi vogliono morto. E la tua unica speranza è aiutarmi ad ammazzarli prima che mi stendano. I sette ti vogliono morto? Che fantastica ironia, sei un povero idiota. Allora, vuoi venire oppure no? Non lo so. Ti pagherò, avido bastardo. Ora esci e combatti. Dove sono gli altri? Mi serve tutta la squadra. Rimli e Metzen sono andati da noi. Silenzio! Prenderemo tutto il possibile! Andiamo! Dimmi cos'è successo, Key. Cosa cazzo è combinato? Beh, hai il diritto di chiedere. Se lo fai un'altra cosa, Key. Quindi finalmente hai ucciso quel verniciato? Non adesso. Ma questa parte, Key! Cosa cazzo è un'altra cosa, Key. C'è una bracenta nel periodo di studio. E' una bellissima. Cosa cazzo è un'altra cosa, Key. E' un'altra cosa, Key. Il senso è uno verniciato. Continua! Prendetevi. Non basta! Hai un'altra cosa! Ecco! Che cosa cazzo è? Apriли! Non basta! Non basta! E' un certo! C'è l'arrivo, Messia e Giulia. Linea arancione, porta in lavanderia. L'arrivo, Messia e Giulia. L'arrivo, Messia e Giulia. L'arrivo, Messia e Giulia. Ci crederò quando l'avrò vista. Merda, li hanno chiusi dentro! Non avvicinarti, Kane. Posso ammazzarti, anche se sono disarmato. Allora, ci fate uscire o no? Contro il muro. Rifiuti. Papa, questo non è il momento di litigare. Ho bisogno di te. Del mio aiuto. Voi stronzi mi avete fottuto la vita. Non sono più uno dei sette. Seguimi e prendi questa. Non lo sei. fuori сильori, vuoiおい per lì che... scischio! Vieni qui, seguimi. Hanno buttato fuori il bastardo. Non è il fantasma. Stronzata. Già, ora prenderemo anche Shelly. Davvero? Lacrimogeni! Ma che cazzo è successo? La mia lista è vecchia di tre anni. Ho corso il rischio, ok? Cazzo. Non lo so. Non lo so. Ah, le cose si mettono male. Dove cazzo sei? Mi chiamo Lynch. Lynch, hai un'aria famigliare. Andiamo. Non ti ho mai visto qui. Da questa parte. No? Forse no. Ah. Posso darti delle posizioni? Tieni, prendi queste. Merda, questo posto va a fuoco. Non ho fatto niente. Non ho fatto niente. No. 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 Voglio andare fino alla sala di controllo. Va bene. Prendi un'arma come se niente fossi. C'è una tua ricerca di Dio e tuttora? Ormai sono fuori dal braccio della morte. Sei solo uno star. Sì, forse. Ora muoviamoci, ok? Voglio andarci. Uomo a terra! Ehi, vedi chi c'è insieme a te. Rificio. Papa. Hai detto? Quello di Detroit? Sembra che averlo riconosciuto. Figlio di... Ehi, stai lontano! Fonditi! Prendi! Ne vedo qualcuno. Perfetto. Un proprio municione! Ci siamo fanno di volere. Alviamo alla fine. Ne vedo i cittadini. Ah! Alviamo alla fine. Verrà 10. Perfetto, vorrà! I servizi a tutti qui! Giubito! Sta tranquillo. Tieme. Non la secco, qualcuno ha delle munizioni? No. Ci servono tutti i diversi vipossibili. Ma che cazzo, ne fai uscire tutti? Sì. Sembra che laggiù mi stiano massacrando. Cazzo le munizioni! Usa le tue. Ehi, vi vedo! Sono qui sotto! Ecco Shelly, è ancora vivo. Vuoi uscire? No, si è aperto solo il cortile. Dovrei aprire gli ultimi cancelli dalla torre. Quale torre? Vai avanti, cazzo! Non puoi non vederla! Ehi, guarda che io con Lynch non ci lavoro. Conosci Lynch? Ne ho sentito parlare. Ammazzato sua moglie. E non in un modo piacevole. Aspetta, tu hai ucciso tua moglie. Questo non è il momento. Foditi, Chirichetto. Non sai niente. Non sai niente. Soprita! Se avessi saputo che l'hai uccisa... Beh, è così. Col cazzo che ti avrei portato con me. Io credo di non averla uccisa. Credi di non averla uccisa? Che cazzo vorrebbe dire? Non ricordo nulla di quella notte. Se tu avessi non sono responsabile. Capito multo! Si è dovuto farmi parlare! Scusate! Ok, ok E' inapprezzo a quello che stai facendo, ma tienimi lince fuori dai chiedi. Non lavoro, buoni tazzo. Tu lavori con chi cazzo ti dico io, è chiaro? Non mi va. Non me vale la pena. Senti, io so quanto flutterà tu. Non me vale la pena. Sei fotta. Come se tu fossi un santo. Mi andatela! Rimani vicino. Torze, muoviti! Mi metterò ti in culo! Mi metterò ti spazzo la macchia! Accidentali! Mi metterò ti, tu... Mi metterò. Evit wygląda la macchia! Uff! 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 Mi servirà un carro armato per uscire da qui! Salite tutti sul cellulare! È blindato! Uff! 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 Sampai Screen Meat Prix R Grazie per la visione!